Salve homies! Ok, reinizia... Continuiamo con Spectacular Sentiment. Si, livello numero 7 mi ha... Come cavolo? Mi ha spattapegnato il cervello, ora vediamo... Livello 8, che cosa cavolo mi combina? Ok, ero già... Oh, shit! Eh? No... 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 Ok, devo stare molto attento a quello che faccio... Oh mio Dio! Cioè, per uno... Ok, va bene... Ho capito quello che devo fare... Mi... No... È troppo! Per me è troppo questo! No... Vai! Lo voglio finire questo gioco! Lo voglio finire! Ogni volta che... No! Vai! Andiamo col prossimo! Andiamo, dai! Tre livelli di fila! Tre livelli di fila! Che cavolo sto facendo? Quello è il tipico sbaglio... Che a uno... Stupido può succedere! Oh mio Dio! Eh... Sare per fare una gran cagata... Omino di sabbia! Che cavolo ti... C'è non puoi accorciare... Non puoi accorciare un po' le tue gambe, cavolo! Ogni volta per le tue gambe devo perdere! Ogni volta! Oh che cavolo! E in più la mia stupidaggine... Una combinazione... Mortale! La paura di... Di mancare un oggetto... Un orb... Inter... Importante per... Oh! SALTA AMICO! La punta non mi deve beccare! Non mi... No! Non mi colpisce! Non è vero! E' una finzione per... Oh fuck! E' una finzione solo per farmi arrabbiare molto! E' tutta una illusione! Ok... Ok... Ho capito com'è... Ma che cavolo! Guarda se per fare una gran cagata amico! SALTA! E' SALTA! Mh... Pfff! Oh! Mi sono spaventato! Ho detto... C'è... Ma che cavolo è successo? Dai! Prossimo livello! E' che... Oh! Fff... Panico! Oh fuck! Oh fuck! Oh mio dio! Non ci sto capendo niente! Mi sta accomodo! Ehm... Yeah! Un altro! Tanto per fin... Oh! Ancora 7 libri... Ma serve per confondermi con la cabana! Run over the trampoline to jump very high! Uh... whu... Come faccio? Il tipo è così? Oh! Ooh연! Fuck! Sto pulendo tutto il mio monitor. MA COME POSSI- PERCHE LO MANCA? MA E' MESSO MALE! NON VA LÌ! NON E' GIUSTO! E' STATO PROGRAMMATO MALE QUESTO GIoco, e se io faccio... Scusa, perchè è saltato? C'era un trampoline invisibile lì! Almeno ho capito che non devo saltare, almeno una cosa... Ora, guai a te se salti! Ma stiamo scherzando? MA STIAMO SCHERZANDO CHE MUORA SENZASENSO?! Eh, ma ora devo saltare da solo? Eh, che cavolo! Non sto capendo niente io qua, oh! Oh, questa è stata una combinazione forte... Devo lasciarmi andare? Sì! Oh mio Dio, no, non voglio... Sono grande! Sono molto grande! L'ultimo e basta, non ne ho più voglia! Facciamo così! Facciamo così! Così! E poi così! E poi così! Così così! Non cambiare mai, amico sabbia! Sabbia, sabbia, min... Grazie, ora che voglio morire non posso morire! Perché? Perché sono al sicuro! Ti faccio morire io però! Stronzo! Stavo andando così bene! Ero così felice, ora mi è rovinata la giornata! Oh no! Stavo per mancare... I... Di solito io sono una persona molto calma! Non mi faccio prendere così facilmente il nervoso! Anzi... Ci vuole molto per farmi venire il nervoso! Io sono sempre molto, molto tranquillo! Eh... Sono troppo tranquillo io! Non importa cosa succede, io sto calmo! Non serve a niente a prendersi il nervoso! Specialmente per un gioco! Non serve proprio niente! Ti fa finire solo male al cuore, nient'altro! Ho detto che io sono calmo! Dov'è che io sbaglio? Ecco dove sbaglio! Adesso che l'ho capito forse... Ehm... Ce la posso fare! So che questo Mino corre troppo veloce! Cioè... Ci vuole proprio un timing di quelli proprio svizzeri! Forse uno svizzero può vincere questo gioco proprio senza problemi! Di sicuro! VAI! SI! E per oggi basta, Homies! Sì